Benvenuti amici, io sono Salopimpos, oggi torniamo su Nightmare Gate Domenica è saltata la Domenica Horror, quindi la facciamo oggi, dico recuperiamo Allora, l'ultima volta che abbiamo fatto questo gioco siamo arrivati esattamente qua Ovvero nel punto in cui dobbiamo recuperare la chiave per uscire a sto postaccio Se non sbaglio, questo è l'ultimo capitolo, perché il terzo ancora lo devono fare Quindi probabilmente oggi non vedremo assolutamente il finale Ma mi raccomando ragazzi supportate serie e canale lasciando sempre un bel like E mi raccomando seguitemi anche su TikTok ed Instagram Come sempre vi lascio il banner qua sopra, sto polendo, sto polendo Allora, forza, diamoci da fare perché adesso qua eramo scellotti con le gambe lunghe E sono spawnati, allora la porta d'uscita sostanzialmente è questa Quindi noi dobbiamo, salve buon uomo, buon uomo Mi faccia ricapitolare quello che devo fare, per favore Allora, salve Allora, sì, allora l'ho detto 80 volte Quindi mettiamoci qua, facciamo il punto della situazione Perché ognuno di essi ha un pattern abbastanza preciso Quindi dobbiamo semplicemente capire come si muovono Guarda che fascia di... che fascia dello schifo chi ha Guarda lì i denti come... vabbè Allora, noi dobbiamo arrivare praticamente in fondo al corridoio Qui... Tecnicamente non dovrebbero vedermi Però... mi vedono Però anche no Ci ha ripensato Meglio così, meglio così Allora, lì eventualmente possiamo entrare Ma perché co? Per delle monetine? Semplicemente c'è qualcos'altro Che mi fate vedere? Che mi fate prendere più che altro? Monetine? Passaggio segreto? No? Brutte persone Cioè, ma arrivare in fondo al corridoio è praticamente impossibile Allora, questo entra, sicuro Quindi noi dobbiamo cercare di... Con calma e circospezione Se un gioco è peggio di Metal Gear Eccolo Tu entri? Mi sa che... entra, entra E come non entra? Salve Piano... salve Ok, via Come se non ci fosse un domani E... Ma dove? Però sempre in gabbia Non ce la farò mai Ok Qua non dovresti vedermi Testeremo a scello Ci sia... Attenzione, un'altra porta aperta Possiamo entrare lì Vediamo Non mi puoi vedere Non lo fa... Come fai? Come fai a vedermi? Che io sono dentro la gabbia Per gli uccelli qua Ecco, ogni tanto funziona Ogni tanto no Non ho capito il motivo Per cui succede sta cosa Quindi cerchiamo di concentrarci Altrimenti qua Oggi non ne usciamo noi Assolutamente non ne usciamo Buon uomo Allora io la vengo dietro Quell'altro che sta facendo Qua via E io la vengo dietro Perché lei si insinua Io dove lo aspetto io a sto coso qua Vado... Mi metto nuovamente qua Magari non mi vede Metto proprio indietro Ecco, così lui passa Ecco, con la porta chiusa E io mi insinuo qua dentro Grande così Checkpoint Aspetta che mi insinuo E mi incoraggio Perfetto Ci siamo? Mi sa che ci siamo Che abbiamo qui? Monetine? Monetine Ti pare Sempre monetine Altre monetine Che abbiamo? 120 monetine Attenzione Quasi quasi potrò attivarmi la mela Che abbiamo? Cacciavite? Cacciavite Attenzione Oggetto nuovo Qua possiamo Richiede un cacciavite Usiamo Lo dico Che fa? Ce lo conserviamo Qua Mela E monete Però la mela Questa non ce la possiamo mangiare Meglio così Meglio così Qua altre monetine Grandissimo Facciamo collezione di monetine Ragazzi Benissimo Benissimo Allora Eh, vabbè Col passaggio segreto Vediamo dove andiamo a spuntare Allora Scusate Perché se Se ci porta vicino alla chiave Richiede un cacciavite per aprirlo Ma come? Prendendo le monetine Ho lasciato il cacciavite Ma Ma dai Esistono le tasche Perché non vi portate mai le tasche Nei giochi? Guarda là Per prendere le monete Ho lasciato il cacciavite Sto facce di capra Bimbo Per favore Automatizza certe cose Che io do per scontate Giusto? Non dico Non fai il facce di capra Allora Con calma Sempre con calma Circospezione Via Preciso Buon uomo Aspetta Ma io dovrei andare di là? Dove siamo qua? Vado di là O vado di là? Di là non è possibile Perché c'è un ramo scellotto Che mi punta E mi minaccia E là pure Quindi Nel dubbio vado qua Monetine Nel dubbio Prendi le monete Bimbo Non lascia cadere No Via 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 Insinuati Salve Questo è il nostro nascondiglio E chi se ne frega Ma scusate Perché a me Mi inseguono tutti A voi Se voi siete qua Tranquilli e beati Con ste facce Che non fate niente Nel senso Non vi colpiscono Perché a me si Ma io una smuzzicata Stamela gli adere Va 50 Ma si Ma su via Allora A parte sto giravite Sembra una freccia Però dico dettagli Allora Mi insinuo da qua Che si fa da qua No Non da qua Aspetta un attimo Salve La seguo Non la seguo più Non la seguo più Non vale Non vale Mi hai toccato la schiena Non vale Non si toccano le schiena Ai bambini Non fare il caprone Allora Fortunatamente ho preso il checkpoint Però male Allora il giravite L'ho perso qua C'era un giravite Da queste Ma l'ho perso qua Giù perché sono morto qua Eccolo male Non fate i furbetti Ma che facciamo Ma come fai io Che sono dentro Accovacciato come una marmotta Che sta defecando E tu mi rai rompere le scate Ma com'è possibile Ma dai Su Ma tra l'altro No Credevo ci fossero nuovamente Le monete da raccattare Invece no Al mi fate Fare qualcosa Per far Era moscellotto Già c'è rotto le scato E io mi insino E via Ok E fin qua ci siamo Dov'è che siamo Qua però Ma nel dubbio Mi prendo sempre le monetine E lascio cadere il giravite Ci serve più il giravite Nel dubbio Lo prendo sempre Va Ah guarda Dov'è che siamo andati a finire Monetine Che cacchio è Non mi fate spaventare Per favore Che poi dico le parolacce Allora Eh Cacciavite 106 Ok Un altro checkpoint Lo possiamo prendere Allora Ecco la chiave Attenzione a quei caproni là Quindi che fa Mi arampico sulla sedia Attenzione Mi arampico Mi arampico Mi devo alzare ovviamente Mi arampico Meglio così La forza brutale Chiave Della porta rossa Con la forza brutta Si ottiene tutto E vabbè Adesso Giustamente il cacciavite Non mi serve più Quindi attenzione A dove andiamo a morire Però C'è una mela Qua no Siete delle brutte persone Allora Sempre con calma Cerchiamo di ritornare Dove che eravamo prima Perché lì I ramoscelli I ramoscelli Però Se io mi accovaccio qua Magari non mi vede Perché sono velocissimi Sono queste brutte persone Sono molto veloci Quindi sempre con Calma Io le vengo dietro E mi insinuo nuovamente da qua Perfetto Eventualmente c'è un checkpoint Però dico Dobbiamo tornare Da dove che siamo arrivati Qua c'era un tizio malefico No E qua c'era qualcuno Qua ce ne erano due addirittura Che al fine anno fa Eccolo qua uno L'altro L'altro non me ne frega niente Perché me ne vado Via Piano Con calma e indolore Preciso Fin qua ci siamo arrivati Praticamente Praticamente siamo arrivati Perché uscendo dal tunnel Eravamo lì Sostanzialmente No Vicino all'uscita E quindi piano E quindi piano Che già si può fare Attenzione Un checkpoint lo prendiamo E farò lo prendi E dai Spendiamo le ultime monetine Non me l'attiva Ma come non me l'attiva Già l'avevo preso questo Ma l'ho preso prima Adesso la chiave in mano Siete le brutte persone Allora Se noi facciamo Con calma e circospezione Come sempre Magari Ce la facciamo Allora intanto Devo capire Che abbiamo dietro Se capiamo Che abbiamo dietro Eccolo E giustamente Io mi guardo dietro E poi mi rompete Le scatole da davanti Comunque la chiave L'abbiamo persa qua Va bene così E riattriversiamo il tunnel Adesso mi si bagga il gioco E mi sparisce la chiave Cose che comunque Non sono Eh proprio Ecco Meno male che c'è Meno male che c'è No perché ogni tanto A me capitano Certe cose Perché non mi attivi la mela Ma che fai È in marcia Non ti piace Allora piano Aspettiamo il ramoscellotto Che mi ha fregato Sono una brutta persona Se di persona si tratta Perché a me Sembra più una capra demone La fammi pigliare la chiave Brutto essere Che poi io Vado via Ma dove però Voglio mi mettere a correre qua Scusate Che fa non corri Ma che fa non corri Che sono già arrivato Ma che fa non corri E via Che attivo la porta E siamo usciti Che ti fa Che ti metti a nascondere qua E via che corriamo Allora Apriamo sta porta Vediamo che trovi La porta dei demoni E quindi Ecco nasconditi Va Per quanto possano servire Ste gabbie Però usiamole Salve Che fa Che trasporta Mia sorella Ma come Salve E non ti posso aiutare Scusami Io non ti posso aiutare A posto A posto così Nuovo capitolo in arrivo E lo sapevo Che non potremmo completarlo Votici per continuare a lavorare Meno principale Terzo capitolo Che arriverà Non si sa quando Non si sa Non è che mi dicono qualcosa No ci fanno attendere Così a caso Presto in arrivo Non ci è dato sapere Quando Quindi ragazzi Mi raccomando Lasciate un bel like Sempre per supportare Serie e canale Così quando uscirà Il nuovo aggiornamento Ovviamente Continueremo il gioco Iscrivetevi al canale Se non siete iscritti Attivate la campanella E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi torniamo su Brawl Stars Abbiamo la nuova modalità Brawl a volo Disponibile Che fa non te la provi Dopodichè Dobbiamo vincere L'ultima battaglia con Colette Per avere 500 oggettoni Dopodichè Abbiamo MZ